Si è svolto ieri sera al Centro Culturale Da Vinci di San Dona di Piave l'incontro pubblico promosso dal gruppo Controllo di Vicinato sul tema della sicurezza residenziale e su come difendersi da furti e truffe grazie agli interventi dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Il controllo di Vicinato non è solo fare segnalazioni ma appunto collaborare tra cittadini. Diciamo che l'esigenza che ci ha spinto a unirci in questa associazione appunto è lo scopo del cittadino a sentirsi più sicuro nella propria zona. Perciò ricostruire appunto il rapporto sociale e segnalare eventuali cose sospette. Diciamo che in Italia abbiamo un censimento di 361 comuni all'attivo, solo in Veneto siamo in 18. Circa 16.000 famiglie hanno aderito in tutta Italia, 4.900 solo nel Veneto. Il controllo di Vicinato agisce sostanzialmente nel controllare la propria zona di competenza, la propria area dove si vive, vedere quello che succede attorno, qualcosa di anomalo che si riscontra si può essere segnalato a un coordinatore che collabora costantemente con le forze dell'ordine. Per iscriversi al controllo di Vicinato della zona di Sandona basta andare sul nuovo sito che abbiamo costruito che è www.cdvsandonadipiave.it, c'è una scheda di adesione, basta compilarla ed inviarla. Successivamente ovviamente il cittadino deve essere formato per far parte del controllo di Vicinato. Tra le novità presenti sul nuovo sito del gruppo, anche la Ladromap, un'apposita sezione dove il cittadino può segnalare la posizione di furti riscontrati, in modo da contribuire a migliorare l'attività di prevenzione che le forze dell'ordine possono effettuare sul territorio. E in tema di sicurezza percepita dai cittadini e di collaborazione con gli stessi, è proprio di questi giorni la firma del protocollo di intesa tra prefettura e i comuni che aderiscono al progetto di controllo di Vicinato. Finalmente dopo un anno siamo arrivati in porto con questo importante risultato, vale a dire che la prefettura ha finalmente ottenuto il via libera dal Ministero dell'Interno nel riconoscere le iniziative di controllo di Vicinato come uno strumento importante per la sicurezza del territorio. E' chiaro parliamo di cittadini che vivono la città come dicevo prima con gli occhi aperti, quindi non si chiedono a loro iniziative di intervenire e mettere magari a rischio la propria incolumità o quella altrui per individuare o fermare delle persone, bensì di segnalare tutte quelle situazioni sospette, chiaramente attraverso un sistema di filtri e questo è possibile per la rete di controllo di Vicinato, alle forze dell'ordine che possono essere quelle della polizia locale durante l'orario diurno e possono essere quelle delle altre armi, quindi guardia di finanza, carabinieri e polizia in orario notturno fino a quando anche a San Donà non istituiremo anche un servizio sulle 24 ore. All'incontro poi i rappresentanti delle forze dell'ordine hanno rassicurato i cittadini sulla diminuzione delle attività criminose riscontrate, sebbene l'influenza dei social network abbiano amplificato la percezione contraria, complice la facilità e la velocità con cui le informazioni, spesso imprecise, viaggino sulla rete. E hanno inoltre illustrato ai presenti le truffe più usate dai malfattori e come i cittadini se ne possono difendere. Noi abbiamo rilevato nella fiera del rosario del 2014 un attacco ad un bancomat del centro città, praticamente nel bancomat delle poste centrali qui di San Donà, degli ignoti perché non siamo riusciti a identificarli, avevano installato quello che viene definito skimmer, è un dispositivo per carpire le bande magnetiche dei bancomat, questo skimmer era stato notato da un cittadino di San Donà che ci ha fatto intervenire e abbiamo rilevato l'anomalia. Il dispositivo è stato immediatamente tolto e lo farò vedere questa sera in modo che la gente, quando va a prelevare, presti un minimo di attenzione al fine di evitare poi spiacevoli sorprese quando poi si troverà con dei prelievi anomali del loro bancomat. Un consiglio che possiamo dare è sempre stare attenti al bancomat, se si presta un minimo di attenzione poi io farò vedere le foto e anche il dispositivo come è fatto si può notare, chiaramente però bisogna prestare un minimo di attenzione perché altrimenti si va incontro a spiacevoli sorprese.